Salvini, vaffanculo, Salvini, Salvini, vaffanculo, Salvini, Salvini, vaffanculo, Salvini, Salvini, vaffanculo. Torna in batania, merda! Sei solo per l'ombardia a Veneto, merda! Merda, torna in batania, non ti vogliamo! Non ti vogliamo qua, torna in batania, merda! Si è tornato da papà perché sa bene quello che è suo, vero? Sei tornato da papà perché sa bene quello che è suo. Praticore! 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 Stati ripenendo, non lo sa rubati 50 amole un'ora io. Fa marchette e mariolo, tutti gli uomini, perché i soldi da russi, perché i soldi da russi, e chi si dice che i russi non ci stanno più, chi stanno parlando, ma i malvesteri oggi! Chi non salta è l'è vista, eh? Eh! Chi non salta è l'è vista, eh? Eh! Chi non salta è l'è vista, eh? Eh! Praticore! 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 E ne entrano 40 con le panche! E com'è che è manifestazionato? Al 25% perché non lo dici? Perché non ti conviene! Sono 530 euro a persona! Ok? Perché non lo dici? Bufone! 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 Napoli in merda, Napoli in colera, sei la vergogna dell'italiano. Che stava cantando? Che stava cantando? Che stava cantando? Sei una banda di colerosi a terremotare! Che stava sentando cantando? Vada giù! Ecco i cavettoni per il ministro degli interni. Sei un mafioso! 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 Salvini, 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 Salvini. 49 milioni di euro si è rubato, 49 milioni. Salvini caccia i rubli. Mariù, 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 Mariù. E da gente di arati, e da gente di sini. Salvini fatti processare caccia i rubli. Fatti processare Salvini caccia i rubli. Non ha bisogno di un ministro del genere. Non è un nostro ministro, assolutamente. Puoi venire qui in questa terra a raccontare balle. a raccogliere ovviamente voti, è una cosa indegna, vergognosa, voglio dire, il populismo lo faccio a casa sua. Vai, vai, vai. A Palazzo Leale trovarono un bidet, lo chiamarono oggetto a forma di chitarra, sti tozzi, non si lavavano nemmeno. Vieni a prendere i voti dai colerosi ai terremotati, Matteo. Vieni a parlare con i cittadini, Matteo, non chiuderti dentro, la benzina l'ha abbassata, le accise l'ha abbassata. Vieni a città con la questione dei rubli, Matteo, spiegacelo. Vieni a passare! Vieni a guardare con i cittadini! Vieni a toccishare,シャガlți… Questi signori non possono riporre a destrarsi. Salario minimo.